Un aumento di soli 50 euro mensili ritenuto inaccettabile. Per queste ragioni in piazza Massari a Bari si scende in piazza e si sciopera per il rinnovo del CCNL. Nel Milino un'eba irricevibile la proposta datoriale perché si sostiene non permette un dignitoso recupero salariale. Non abbiamo bisogno dell'elemosina di questa associazione datoriale. Siamo qui perché anche se non siamo dei metalmeccanici, non siamo dei bancari, non siamo degli edili, abbiamo anche noi una dignità. E la dignità passa da un contratto giusto, da un contratto economicamente vantaggioso e che ci permetta di essere e di conquistare quella dignità che oggi non ci viene riconosciuta. Siamo parte integrante e fondamentale delle comunità di tutte le città e dei paesi d'Italia perché diamo assistenza non solo sanitaria ma anche sociale. Abbiamo rigettato in quanto irricevibile la proposta da parte dei datori di lavoro che ritenevano di mettere a disposizione un importo di 50 euro mensili per il rinnovo contrattuale. Un importo pari al 3,58%, quindi veramente irrisorio rispetto ad un'infrazione programmata, ad un'infrazione che è intorno al 17-18% considerato che manca il rinnovo contrattuale da quasi 5 anni. In questi anni sappiamo l'infrazione quanto ha faciliato il potere d'acquisto dei lavoratori. Un'Eba deve ritornare al tavolo delle trattative facendo una proposta concreta e che sia in linea con tutti gli altri contratti del settore che hanno riconosciuto ai loro lavoratori delle somme ben più importanti.